E salve a tutti ragazzi, qui è dell'ordito che vi parla E come vedete in questa partita mi sono preso un po' avanti Cioè, senza di voi Mi sono sistemato un po' di cose qua Per esempio, ho costruito un forte Questo è un forte di limello 5 Ed è molto potente Meno 90% di danni in meno E alza morale di 25 Poi qua, come vedete, questa è una bella fabbrica Non è ancora potenziata al massimo Penso c'è un altro potenziamento, non mi ricordo E qua sto costruendo un porto Perché così costruisco una corazzata Che è una nave molto, molto potente Allora, come forse avete capito Questa Russia qua verde fra poco non esisterà più Sopraffatta la potenza della Russia del nord L'impero ottomano si è già preso avanti Ma niente paura Qua c'è l'orlo L'orlo sistema le cose Ehm, infatti Aspettate un attimo Prima devo sistemarmi io Ehm, 203 Cass, ok Per ora mi accontento Avete capito, no? Russia Russia Sei morta Guarda Non sono completamente impreparato Guardate questi che belli Ed era da giorni che stavo pianificando questa cosa Non ho registrato perché tanto non è successo niente di particolare Certo, sì, dovrei registrare per prendere un maggior video di Cioè, numero di visualizzazioni però Ecco Cioè, c'avevo raffreddore Non c'avevo voglia di registrare E comunque Mi piace questa Russia Tante risorse Tante belle, belle risorse Ehm, potrei andare al mercato Farmi un po' di soldi vendendo No Petroglio Pesse Grano Vediamo l'offerta maggiore sul mercato Questa Mi piace Ehm Tu sei la capitale, no? Spionaggio Una spia, dai, me la posso permettere 500 al giorno 4000 al giorno Me lo posso permettere Che magari mi riveli tutte le armate Chiedo Chiederò Un mostramappa Alla Gran Bretagna In teoria non è successo niente di nuovo Da quando ci siamo lasciati Con l'ultimo video Quindi Penso vada bene Guardiamo il giornale per sicurezza Comunque io ho sempre continuato a giocare Ah, sì Ehm Questo sarà un video breve Non ho voglia di convertire Roba varia Quindi non sarà in HD Ma non penso Vi crei molti problemi Solo a rantolo Ehm Qui È dell'orlito col Che Dell'orlito Dell'orlito che farà un altro video Per ringraziare Non vi anticipo Ehm Qui è dell'orlito E ciao a tutti